Probabilmente non vi sono parole per esprimere. Via, via, via signori, vi prego. Al contrario c'è una parola adattissima. Digli qual è. E... Superdio canelardo sudicio e merdoso. Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Superdio canelardo sudicio e merdoso. E ambele, 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 ambele. Ricordo che ha tre anni per convincermi a parlare. Il padre mi diceva non ne devi mai tirare. Finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò. E dissi la bestemmia più simpatica che c'è. Superdio canelardo sudicio e merdoso. Anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso. E lo dici forte avrai un successo strepitoso. Superdio canelardo sudicio e merdoso. 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 Grazie a tutti